ragazzi questo è un caso più unico che raro non ci voglio credere ma non ci voglio credere andiamo a vedere altro balcone io non ho mai visto una cosa del genere mai mai no vabbè dai giorno che rimarrà nella storia delle storie auguri ecco buongiorno ci sappiamo in materia o foglia e certo vediamo se mi mette a fuoco bene ecco stavo dicendo così tanta nive non sarei mai aspettata no ma a terra non prende va bene a terra non prende io un po' come lo si no però guarda noi passiamo guarda perché viglia un po' eh ora sta vigliando allora è vero perché là comunque come si è fatto con l'opera dello spinto tanto eh questo è il nido ok ragazzi siamo qui a via dopleziano incredibile camera me ha tricato un po' più tempo perfetto l'85 non nevicava qui a via dopleziano qui a fuori dritta incredibile tutti sono scesi in realtà soltanto noi due però è un qualcosa di stupendo riprendi riprendi camera adesso sa che chi non è però guardate qui guardate qui solo qua solo qua 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 no è un qualcosa di incredibile l'hai visto l'hai visto l'hai visto l'hai visto l'hai visto l'ho per teno andiamo sulla strada anche senza le ruote a disagio senza ruote non ci vedete tutti senza la ruota ma guardate ma tu non tocca lì guarda qua sta pigliando eh non ti spiega parole non si spiega oddio guarda là i pupazzini a me l'hanno provato a fare un qualcosa un giudo e bla ma 63 perché non avete mai visto una cosa del genere no io l'ho visto nel 63 che era piccolino poi più avanti ne ha fatto poco però di questa portata no no io nella mia vita infatti non l'ho mai vista bello questo amici miei è piazzale Tecchio questa è la situa tutta qui va beh sei casato ma te sei casato è di 5 a 2 a 2 a 2 a 3 a 10 a 10 a 10 a 10 bravo la cucina a 5 a 10 a 10 ma hai mese non lo posso carammo da 11 a 12 a 10 dai 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 E ragazzi, adesso siamo, per dire, a Rosario San Paolo, è la situazione incredibile, guardiamoci intorno, ma dove siamo? Abbiamo mai vissuto questa neve a terra? Mostra, cameraman, guardi, è diversa, è anche la gente, un po' pazzo di neve, il chiatto vive, perché il chiatto vive sempre, e nulla, qualcosa di spettaculare, che io mi ricordi nel 60, 70, inizio 70, fine 60, ma così mai. Qua si sta aprendo il cielo, però continua, io spero ancora per tanto, qui continua a nevicare, continua a nevicare, sono le, sono le, sono le 9.35, ancora, non passa mai il tempo, però è tutto stupendo. Comunque ci sta il sole, continua a nevicare, continua a nevicare tanto, io non voglio che finisca assolutamente, deve continuare tutto il giorno, tutta la settimana, tutto il mese. Ragazzi, il sole purtroppo sta facendo il suo effetto, qui già, come possiamo vedere, si è levato tutto, ma si è levato tutto solo qui rimane, che era tanta, quindi è compattata. Ho fatto le mie ricerche su internet, ed ho effettivamente constatato che era da un po' di tempo che non nevicavo a Napoli, ritroviamo tutte le date che comunque ci hanno riportato quei signori di quelle annate, anche se quella di quest'anno sembra assomigliare molto a una nevicata abbondante del 1956, che ricorderanno però soltanto i nostri nonni. Ed ecco una foto che va a testimoniare la somiglianza fra le due nevicate, il 1956 e il 2018, anche se vogliamo proprio essere pignoli. Notiamo come nella foto del 1956 c'è molta, molta pignola a terra rispetto alla foto odierna della nevicata del 2018, e quindi grazie. Ciao, ma rifà! E ragazzi il video si conclude qui, io spero che sia stato di vostro gradimento, noi ci vediamo in un prossimo video, che sarà fa 2-3 giorni, non lo so, sto cercando di migliorare sia la qualità del video, che la frequenza di video sul canale. Quindi supportatemi, mettete un bel mi piace, e soprattutto iscrivetevi al canale, cercando di arrivare a 70, per arrivare a 100, per arrivare a... Ok, e spero che vi siete conti sia il video, che la giornata di neve trascorsa martedì. Quindi adesso vi saluto, ciao amici, e buon weekend! Eh, adesso lo stacco, perché devo staccare.